Ciao a tutti amici, io sono Chiara. Che cos'è Stralab per me? Beh, sicuramente un salto nel vuoto iniziale totale. Io ad esempio ero convinta di non possedere minimamente le ali per poter volare. Proprio però in realtà, confrontandomi con gli altri, dedicando tanto tempo alle varie attività proposte, anche guardandomi dentro, ho scoperto che in realtà la fantasia, la creatività vanno pian piano coltivate. E sicuramente poi in contesti e campi fertili come questo riescono ad emergere. Ho riscoperto un'idea essenziale per me, quella di gruppo, che si è rivelato rafforzare ogni concetto. Era un'idea che appunto in questo momento della mia vita mancava, mancava totalmente. Inoltre mi sono poi calata nelle bestie di presentatrice, autrice, disegnatrice stessa delle mie creazioni. E questo superato all'iniziale paura e imbarazzo mi ha aiutato molto. E anche mi ha reso pronta al confronto con gli altri.